Oggi ti parlo dell'arte della casa. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video un po' diverso dal solito, un video un po' chiacchericcio, un video che nasce da un TikTok che ho pubblicato appunto su TikTok e da un reel che ho fatto su Instagram. Anzi, se non mi segui su questi due social ti invito a seguirmi perché lì scaturiscono discussioni molto molto interessanti che poi certe volte amplio anche sul canale. Diciamo che quella è la frangia discorsiva di Arte per te mentre qui mi dedico più alla pratica. Anche se oggi voglio fare un discorso anche con voi. La nostra epoca è un'epoca molto molto strana. È un'epoca dove si ha una grande disponibilità economica che che se ne dica, che che vogliano farci credere, che non ce la passiamo affatto bene. Sicuramente stiamo tutti molto meglio dei nostri bisnonni o quantomeno quasi tutti, diciamo così. Tutti abbiamo lussi che anche i nostri nonni ricchi non si permettevano. Tutti ci facciamo le ferie fuori porta. Tutti abbiamo un cellulare, tutti abbiamo un orologio particolare, tutti abbiamo quel quid in più, tutti facciamo la messa in piega, la tinta. Cose che secondo noi sono più importanti ma spendiamo male i nostri soldi. Spendiamo male i nostri soldi perché abbiamo perso di vista la cosa più importante che è la nostra unicità. Ci siamo fatti molto branco nell'accezione più svilente del termine. Più gregge che branco, diciamo così, più gregge che branco. In questo video non parlerò di politica, non parlerò di crescita personale, non parlerò di consapevolezza. Parlerò molto più semplicemente di ciò che scegliamo di avere attorno a noi. Siamo ahimè abituati ormai a pensare che il grass porcellanato sia il pavimento più bello e comodo del mondo. Siamo abituati a pensare che un intonaco passato così rude sulla parete, un intonaco di qualunque colore, sia molto più bello di una carta da parati. Siamo portati a pensare che un mobile industriale sia molto più utile perché molto più facile da pulire di un mobile antico, di un mobile artigianale o di un mobile fatto a mano. Tutto in virtù del fatto che le cose che piacciono di più adesso le ha la maggior parte delle persone, vengono soprannominate con aggettivi che vanno di moda come ad esempio il famigerato minimal e vanno a soprattutto colpire quella frangia di popolazione che ha un unico interesse, pulire casa. Quando in realtà il vero interesse non è pulire casa, ma è godere della nostra casa. E come si fa a godere della nostra casa se la nostra casa è fatta di cose brutte? Perché anche se dal punto di vista meramente estetico, ma nell'estetica mettiamo solamente ciò che l'occhio vede e non ciò che la mano fa, adesso vi spiego meglio. Un mobile industriale è una cosa gradevole al vedersi nel momento in cui la si compara perché è sempre di un colore molto bianco, di un colore molto chiaro, di un colore molto omogeneo, ha delle linee accattivanti, molto modaiole, ma dopo un anno quello stesso mobile, dopo che lo si è vissuto, è diventato vecchio. Nel senso che si può essere scrostata o gonfiato un pezzo di impiallacciatura se c'è andato dell'acqua oppure si è macchiato stando alla luce del sole oppure si è macchiato con il calore oppure si è macchiato semplicemente con l'utilizzo quotidiano avvirato colore e comincia ad assurgere la vetustà di quel mobile che comincia a dare alla nostra casa un sentore non di vissuto, ma proprio di logoro. Vi siete mai domandati perché? È fatto assolutamente apposta per spingerci all'acquisto continuo e compulsivo di mobili pressoché inutili fatti di cartone o legni di pessima fattura ricomposti con colle formati e pressati insieme che poi vengono datici a prezzi più che accessibili per dare una parvenza di accattivante alla nostra casa. Alla nostra casa? No, alla casa di tutti avendo tutti case più o meno simili e più o meno svalutate nei prezzi. Cosa voglio dirti quindi nel video di oggi? Arreda con arte la tua casa. Se sei in un momento, in una fase della vita in cui ti stai guardando attorno e vuoi rimettere su casa o vuoi avere una bella casa che ti soddisfi che ti faccia sentire a pieno il calore delle mura domestiche non la riempire di questi mobili usa e getta non la riempire di cose che quando arriveranno ai tuoi figli non soltanto non avranno più nessun valore ma saranno talmente vecchi e consumati da dover essere buttati. Riempi casa di cose belle. L'obiezione che mi verrà subito rivolta è ombretta ma le cose belle costano hanno un prezzo molto alto e io ti dico assolutamente no. L'Italia, grazie a Dio è un paese ricco di storia è ricco di artigiani e di arte. Ci sono centinaia di migliaia di negozi rigattieri negozi dell'usato antiquari a secondo a che livello tu voglia approcciare a un mobile vero che possono darti aiuto. Ci sono anche dei serissimi e importantissimi mobilifici dove il mobile viene lavorato a mano e non viene semplicemente assemblato su fogli di legno compensato appiccicati e pressati che poi potete montarvi anche a casa. Capite bene che un mobile che si può montare anche a casa è un mobile che si distrugge molto facilmente. E se io ho una scrivania su cui lavoro non voglio ricordarmi di avvitare le viti ogni tanto ma presumo che la mia scrivania sia stabile e che se c'è un terremoto possa andarci anche a nascondermici sotto come da giusta prescrizione. I mobili ragazzi dovete capire che non sono solamente meri oggetti utilitaristici sono i compagni della vostra vita. Sono le cose che avete quotidianamente sotto il naso sotto gli occhi su cui vi sedete su cui vi appoggiate con cui vivete su cui costruite la vostra storia la vostra storia familiare e i vostri la vostra dinamicità di famiglia appunto e i vostri ricordi di conseguenza. Se un mobile non riesce a sopportare e a supportare il peso della famiglia non è un mobile degno di tale nome. E quali sono questi mobili? Quelli che trovate dai rigattieri dagli antiquari. Certo non è che tutto quello che c'è dai rigattieri dagli antiquari sia una bellissima cosa. C'è bisogno di un po' di cultura per capire cosa è bello per cosa vale la pena spendere soldi e cose invece sono brutture delle altre epoche. Ma sicuramente bisogna fare un po' di chiarezza su quello che dobbiamo avere attorno a noi. Partiamo dalle pareti. Il reel di cui vi parlavo parlava proprio del fatto che io suggerivo di non attaccare alle pareti poster stampe dei grandi magazzini cose che vengono fatte in tirature da migliaia e migliaia di copie che possono essere talmente dozzinali e possiamo trovarle a casa di chiunque. E non vi sentite un po' stringere il cuore quando pensate a una cosa che avete a casa con cui interloquite anche solo con gli occhi quotidianamente che è anche a casa di un altro. Non vi sembra un po' una violazione della privacy se ci pensate bene. Non vi fa strano quando vedete una cosa che avete a casa anche a casa di un altro e se la vedete a casa di altre cinque persone secondo me è veramente agghiacciante. Come si può vivere in una casa che non è solo nostra? Alle pareti cosa appendere? Appendiamo soltanto cose uniche. Io dico nel reel che è molto facile avere delle opere d'arte a un prezzo accessibile. Innanzitutto se andate dai rigattieri anche su Facebook per esempio oramai c'è la sessione marketplace che è piena di belle cose a saper spulciare bene. Ma se andate nei rigattieri e nei negozi dell'antiquariato della vostra città o nei mercatini dell'antiquariato potrete trovare tante pitture uniche che potrebbero arredare quell'angolo di casa vostra o tanti suppellettili che abbiano una storia alle spalle che abbiano un vissuto alle spalle che con la loro vibrazione con la loro energia oltre ad arricchire esteticamente casa vostra arricchiscano anche armonicamente casa vostra e ora voglio parlarvi anche di questa cosa. Quindi mettete alle pareti quadri che sono già stati dipinti abbandonati nei mercatini dell'antiquariato dai rigattieri oppure cosa molto carina è andare in prossimità delle scuole o delle accademi di belle arti o delle scuole d'arte e chiedere così sfacciatamente ma anche garbatamente ai ragazzi che escono da scuola se sono disposti a farvi un preventivo e un progetto per arredare le pareti di casa. Io mi ricordo quando venivano le persone in accademia io ero felice nel poter mostrare il mio operato indipendentemente dal fatto che scegliessero meno quelli che erano i miei progetti. Le persone possono anche dire io ho una casa country o una casa shabby chic o una casa stile 800 e le persone e gli artisti che si affacciano alla compilazione di queste opere possono così meglio convogliare le loro energie creative per accontentare il cliente. Voi in qualità di clienti potete anche mettere le mani avanti ragazzi io ho soltanto 300 euro da spendere in questo progetto 1000 euro 5000 euro per tutta la casa non lo so poi fatevi voi i vostri conti ecco i ragazzi quegli artisti perché possono essere anche artisti che potete conoscere che ne so a una collettiva piuttosto che in una manifestazione di paese possono portarvi i loro progetti che reputano più adatti al prezzo che avrete proposto. Questo sarà un modo fantastico di avere a casa dei pezzi unici non necessariamente costosissimi se il vostro portafoglio li consente potete anche frequentare le gallerie d'arte posti spettacolari dove anche acquistare dei quadri o anche potete andare sui siti d'arte di tante pagine di artisti ci sono su instagram su tiktok su youtube e richiedere a loro un preventivo per un progetto che possa abbellire la vostra casa da mettere sulle pareti io vi consiglio sempre di mettere cose uniche quindi disegni acquerelli quadri tele tavolette che siano comunque delle pitture e non delle stampe a tirature infinite molti social tipo che ne so Etsy per esempio sono pieni di stampe a tiratura illimitata che sono delle vere proprie stampe cioè portano il disegno dal tipografo quindi lo fanno stampare in un'infinità di copie che vengono sempre uguali e quindi queste copie vengono smerciate questo tipo di arte non ha nessun valore ha valore l'originale quindi la matrice da cui prende il via tutta la sequenza di stampe ma la stampa vera e propria una stampa tipografica non ha nessun tipo di valore a meno che la firma apposta su quella stampa sia una firma super famosa e anche lì e anche lì le stampe a tiratura limitata acquisiscono un prezzo sempre molto più alto rispetto alle stampe a tiratura limitata ci sono per esempio molte artisti che dei loro quadri decidono di fare una tiratura di 100 stampe in quel caso le vedrete numerate in basso a destra con un numeretto 1 fratto 100 2 fratto 100 più piccolo sarà quel numeretto più quella stampa varrà perché è la prima di 100 la seconda di 100 la terza di 100 è la matrice quando va a stampare man mano consumerà delle parti di sé quindi la centesima stampa non sarà mai perfetta come la prima anche se queste chiacchiere al giorno d'oggi vanno un po' a finire perché oramai i macchinari sono talmente sofisticati che anche la centesima stampa sarà uguale alla prima semplicemente però avrete un prodotto che comunque avrete soltanto in 100 invece delle stampe io vi suggerisco di comprare le incisioni se vorrete qualcosa di stampato a casa l'incisione è una stampa sì ma una stampa che viene da un lavoro artigianale l'incisione l'avete vista tante volte qui su arte per te ci sono le acqueforti ci sono le punte secche ci sono le incisioni nel linoleum vi mostro qualcosa e sono tutte incisioni a tiratura prestabilita quindi massimo 20 massimo massimo 100 quando si parla di linoleum e sono comunque delle opere uniche perché il momento della stampa è un momento in cui l'inchiostro va addizionato e quindi gli inchiostri espandono in maniera diversa da stampa a stampa e nella molteplicità delle copie c'è una differenziazione tra una copia e un'altra quindi non è più una stampa tipografica tipo la copertina del mio libro posso stamparne anche 2 milioni di copie sarà sempre uguale se io invece stampo una tavoletta incisa da me la mia tavoletta con la pressione della stampa andrà a modificare le aperture le fessurazioni che ci sono fatte l'inchiostro si espanderà in maniera sempre diversa e quindi più andremo avanti nella stampa meno perfetta sarà la stampa quindi perderà anche di valore le stampe senza numerazione non hanno alcun valore se non quello nel momento in cui l'andate ad acquistare per il puro gusto di avere quel soggettino appeso al muro certo non tutti i quadri dipinti sono dei quadri d'autore alcuni sono delle vere e proprie croste ma meglio una crosta che non un poster appeso alla parete e anche i quadri d'autore tipo la monnalisa questi quadri così importanti la madonna di antonello da messina queste riproduzioni così sfacciatamente fasulle non fanno proprio di una casa una casa elegante fermo restando che però se l'avete fatto voi come esercizio di pittura potrebbe essere un bel esercizio da voler esporre nella propria casa magari nel proprio studio e non ci sarebbe nulla di male ma torniamo al mobilio che poi è la parte che viviamo di più circondarci di cose nuove certe volte è necessario perché non tutte le famiglie hanno una storia pregressa fatta di benessere e di eredità di mobili che si vanno lasciando quindi molti sposini si saranno trovati nella condizione di dover metter su casa da zero senza che mamma e papà potessero dargli dei supporti proprio d'arredo e quindi è comunque una casa che inizia la sua storia con il matrimonio si possono decidere due cose la cosa più semplice avendo un budget piccolo è andare in uno di questi grandi mobilifici a grandi tirature no? quelli che vi fanno costruire mobili da voi a casa ma io invece vi consiglio di andare nei mercatini dell'usato dagli antiquari cercare su internet su ebay su subito su marketplace tutti questi posti dai vostri rigattieri di fiducia in questo frangente storico è un approccio molto importante perché? perché è un grande riciclo è un riciclo a tutto tondo non mettete in giro altro mobilio pressoché fatto per lo più di plastica non mettete quindi su strada questo trasporto di mobili da una parte all'altra e soprattutto non mandate al macero dei mobili che sono ancora perfettamente utilizzabili e che sono bellissimi oggi come oggi vanno di moda tantissimi salotti di velluto li vedo promuovere ogni settimana con una promozione che finisce quella settimana ma che poi non finisce mai e sono comunque salotti che lasciano molto il tempo che trovano andate a cercare i salotti anni 50 e 60 di velluto vedrete che mondo stupendo troverete di salotti bellissimi con poltrone tornite fatele ritapezzare e il salotto vi ritorna nuovo ma con una struttura talmente solida e imponente che nulla hanno a che vedere con i mobili di oggi le vostre camere i settimanili i cassettoni sono molto più belli se sono dei mobili antichi carichi di storia la camera da pranzo si può essere un tavolo bianco ricoperto di vetro ma è molto più bello se è un tavolo in noce con delle credenze scolpite lo studio si può essere una scrivania di metallo e vetro ma è molto più bello se vi accompagnerà una bella seduta in legno e una bella scrivania massiccia sotto le vostre mani che creano le librerie si possono essere degli scaffali d'alluminio su cui ripoggiare dei libri l'utilizzo è sempre lo stesso ma volete mettere una bella libreria in legno massiccio in noce che è calda al tatto e allora il mobile perché è importante è importante perché arreda e vi fa passare delle vibrazioni le vibrazioni dello scultore io la volta scorsa ero seduta lì sul divano e guardavo la libreria del mio studio che ha due pannelli scolpiti e vedevo che si vede il passaggio della sgorbia del martello quando è messa contro luce e mi immaginavo lo scultore quando 150 anni fa perché io ho uno studio di fine ottocento quindi tanti anni fa quest'uomo ha scolpito pezzo dopo pezzo il mio studio dopodiché ho ricordato mio padre che apriva le ante per cercare i fascicoli che lo interessavano e ora quelle stesse ante sono piene di cose mie quelle maniglie vengono toccate da me ma nello stesso tempo ogni volta che tocco quelle maniglie tocco anche la mano di mio padre che le apriva ogni volta che sono seduta a questa scrivania e sono seduta su questa sedia sono in braccio al mio papà che si sedeva su questa sedia i mobili conservano un'energia conservano una storia della vostra famiglia sono un qualcosa di voi che potrete lasciare ai vostri figli certo non vorrete lasciare dei mobili di compensato ai vostri figli un tappeto su cui avete passeggiato voi su cui hanno passeggiato i vostri nonni su cui hanno passeggiato i vostri genitori una foto della vostra comunione dove tagliate la torta del matrimonio nello stesso tavolo in cui vostro figlio taglia la torta della comunione non è una cosa meravigliosa i mobili devono essere compagni di vita ma non solo della vostra vita questa sedia è fatta di una vita anzi questa sedia è fatta di più vite è fatta di un albero di più alberi è fatta di un animale che ha dato la sua pelle e quindi noi dobbiamo celebrare questi materiali non dobbiamo sprecarli facendo cose di deboli fatture che non resistono al tempo dobbiamo fare sì che il sacrificio della natura abbia un senso che duri per più di una vita ok che accompagni che ristori e quando magari mio figlio riceverà questo studio non piacendogli possa venderlo e ricavarci del denaro quindi che sia anche un investimento e che qualcuno vedendo questo studio senta le vibrazioni che emana le vibrazioni del legno della pianta del pellame della scrivania e toccandola si immagini seduto attorno a questa scrivania e si immagini la sua vita lavorativa su questa scrivania e con la sua vita lavorativa celebri la mia inconsapevolmente la mia vita lavorativa e la vita lavorativa di mio padre e di chi c'era prima di mio nonno io di là ho la scrivania di mio nonno ogni volta che mi ci siedo me lo rivedo ma non sono affezionata a quel mobile solo perché era di mio nonno sono anche affezionata a quel mobile perché ne rivedo la bellezza assoluta dal punto di vista estetico una bellezza fatta di forme intramontabili di legno che non marcisce di un legno che se cade sull'acqua riesce a trattenerlo e a non distruggersi in cinque minuti non ti si spande in un attimo e si gonfia irrimediabilmente il legno è abituato a ricevere l'acqua non è il peggior nemico del legno l'acqua mentre il peggior nemico del compensato che lo assorbe come una spugna e poi si gonfia invece questi essendo mobili di legno buono legno stagionato possono prendere quanta acqua vogliono perché prima di essere scolpiti sono stati all'acqua per anni e anni e anni per stagionare la qualità paga la moda del minimalismo del tutto bianco che non significa essere minimalisti significa solamente avere case per lo più tutte uguali non fate la vostra a priori cercate di capire cosa c'è dietro la storia del mobile i salotti le tapezzerie ornare una finestra ogni volta che vengono le mie amiche molte mie amiche mi dicono mamma mia quanto ci starai dietro tu alla casa tutte queste tapezzerie chissà quanta polvere i tappeti chissà quanta polvere e allora no togliamo tutto per non fare per non stare dietro la casa poi dietro la casa ci sto pochissimo perché grazie a Dio oramai ci sono aspirapolveri ci sono aspirapolveri che lavano i tappeti mentre passano ed è tutto molto agevole si dà una passata una volta alla settimana come in tutte le case tanto se devi dare la passata su un mobile che o se devi dare la passata su un mobile dell'ottocento ci si impiega esattamente lo stesso tempo solo che io sulla mobile di legno posso passarci con un panno umido fatto di acqua senza è ben strizzato senza usare nessun prodotto su un mobile di questi moderni devo darci molto cauta con l'acqua perché da un momento all'altro mi si rigonfia tutto cercate nell'arredare le vostre case uno stile che sia uno stile che si aggancia alla vostra anima non alle vostre pulizie non bisogna scegliere l'arreddo di una casa in base a cose più semplici pulire e non bisogna stare a casa col pensiero di pulire costantemente una casa va vissuta i mobili buoni celano la polvere i mobili scarsi esaltano la polvere lo sapete questo? su un mobile antico un po' di polvere lo arricchisce lo rende anche più bello più misterioso su un mobile moderno la polvere fa sporco cercate sì di stare dietro alla casa ma di stare dietro soprattutto alla bellezza educate i vostri figli alla bellezza ad acquistare cose che durino nel tempo a non cercare soltanto un appagamento momentaneo ma a cercare qualcosa che non ti stufi dopo domani ma che tu possa avere il piacere di trasmettere ai tuoi figli poi loro magari potrebbero avere anche un altro gusto e decidere di venderlo ma quando decideranno di vendere un mobile buono stai certo che ne avranno un introito in denaro impara attraverso la cultura ti metterò in infobox alcuni testi che possono aiutarti anche nel capire gli stili quelli che sono gli stili che più si confanno al tuo gusto il mecciare il classico con l'antico è un bellissimo esercizio di cultura avere dei mobili antichi perché magari uno non si vuole fare una casa tutta antica perché può risultare troppo pesante ma si può mescolare il moderno ma il moderno di qualità che costa moltissimo a qualche pezzo antico che tiri su il calore della casa perché l'antico serve proprio per dare l'atmosfera ok quando ti parlo di mobili scolpiti di mobili noce di mobili scuri non ti parlo di opprimente antico ti parlo di eterno tra virgolette ti parlo di arte ti parlo di cultura la cultura del mobile è una cultura artistica la cultura del quadro del dipinto dell'arredo murale è una cultura artistica cerca di ampliare le frange della cultura non soltanto in quello che è lo studio della storia dell'arte ma anche in quello che è lo studio degli stili cerca di non cadere nella trappola dei mobili in stile che molto spesso se fatti di recente sono veramente molto pesanti vedo i mobili vedo alcuni video su tiktok di case in neobarocco sono una cosa agghiacciante non c'è bisogno di comprare il neobarocco agghiacciante come stile se dagli antiquari dai rigattieri trovate ancora il barocco e trovate anche il barocchetto in stile anni 60 che è molto più leggero e leggiadro e che oramai è diventato antiquariato anche quello oppure essendo in stile perché è uno unifascimento ormai d'epoca che può arricchire le vostre case in maniera meravigliosa non abbiate paura del vissuto di altre persone quello da sempre si chiama storia ed è una cosa bellissima da portare con sé a casa un mobile che ha avuto una sua storia immaginatelo no e che invece di essere buttato viene accolto in un'altra famiglia e ricomincia la storia è un qualcosa di assolutamente meraviglioso i mobili non possono portare bene o portare male a chissà di chi è stato sento cose assurde quando ci si avvicina all'antiquariato a chissà chi l'ha avuto a casa chissà chi è stato magari non l'ha dato volentieri è un mobile lo caricate voi dell'energia che volete dare e sicuramente viene da un'energia meravigliosa che è quella dello scultore del mobiliere che lo ha costruito caricatelo voi di storia di energia il solo fatto che lo accogliate a casa che lo ripulite che gli ridate dell'olio per renderlo di nuovo lucido che lo facciate restaurare se necessario darà nuovo slancio a quel mobile e potrà portarvi sol che bene e sapete perché? perché porterà un bel pezzo alla vostra casa sicuramente porterà del bene perché porterà un arricchimento porterà un abbellimento e porterà un investimento pensate quindi all'antiquariato come un elemento altamente artistico per orpellare rendere belle vivibili le vostre case anche per le pareti pensate alle belle carte da parato per i tendaggi non l'acrilico pensate alle belle tende tirate fuori i corredi delle nonne che tanto a stare nei cassetti arrivano le tarni godeteveli metteteli su fatevi delle case uniche belle come le avevano le vostre nonne però a differenza delle nonne non mettiamo il telo di plastica o il lenzuolino sui divani godiamoci le nostre cose viviamole tanto se sono cose buone resisteranno agli urti della vita e allora buone case belle case a tutti e non necessariamente spendendo troppi soldi vi posso assicurare che si può mettere su una casa bella andando dai ricattieri dagli antiquari con meno prezzo di una casa nuova di bassa qualità garantito ve lo posso garantire e allora fatevi furbi scegliete il bello aiutate l'ambiente e aiutate voi stessi con delle case fatte ad arte da ombretta ed arte per te è tutto spero che questo video un po' diverso vi sia piaciuto ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo aprite la mente e uscite dal greggio vi voglio bene ciao ciao